Allora, premesso, premesso che sto ragazzino non è italiano, non è italiano, abita in una zona contesa, contesa da tanto tempo, al confine diciamo, di là da Trieste, vi ricordate anche le fosse ardiatine, via dicendo, c'è questo odio, questo rancore, c'è da molto tempo, ok? Ok, comunque andiamo avanti, c'è di questo mondo rispetto all'Italia, loro hanno questo rancore, ma giustamente hanno le loro ragioni, per carità, poi c'è la questione di fiume, di Trieste, lui ha cancellato un video dove si parlava di fiume, di Trieste, l'ha cancellato, ha attaccato la Lombardia in maniera infame, indegna e ha cancellato il video, quindi questo si è già sputtanato davanti a tutto il mondo, a tutta Italia. Comunque, poi questo si alimenta il sogno della Germania, perché comunque sa che l'italiano si fa bindolare. Allora, andiamo avanti, comunque, si va bene, parli del nord, Europa, ok, e qua ti seguo, quindi comunque è tutto uguale, insomma, Svezia, Norvegia, dati che sai te, sai solo te, nessuno può confutare, nessuno può documentarsi, quindi lascia il tempo che trova. Ma qui arriva il rancore verso la Svizzera, perché lui, non può dire che la Svizzera è meglio della Germania, perché, o ha il rancore verso, non so, non so verso chi, comunque, o lui, perché smerda la Svizzera e loggia la Germania? Perché lui dice, beh, come faccio a parlare male della Germania, la gente, devo farla venire, lui fa i soldi con voi che andate lì, eh? Perché vende le lezioni di tedesco, vende i pacchetti, dopo, dopo ti abbindola, perché ti dà l'email personale, quindi dopo qualche cagata te la vende. Allora, per l'usare la Germania, lui dice, no, ma, come dice, qua non posso quantificare, qua non posso, capito, qua non si quantifica, per difendere la posizione della Germania, capito, è di parte, è un tifoso, un tifoso.